Abbiamo iniziato bene contro la squadra forse più in forma in questo momento in Europa che ha vinto in Coppa dei Campioni e prima in classifica in A1 e abbiamo retto l'urto all'inizio senza andare subito sotto poi dal terzo tempo in poi siamo un po' calati anche fisicamente e loro non hanno mai mollato, hanno giocato al completo sempre fino in fondo e comunque sono parte superiore a noi ma sono anche di un livello superiore a tantissime squadre appunto in Europa e penso anche nel mondo Sicuramente abbiamo lavorato un po' meglio per l'uomo in meno e un po' meglio per la difesa loro attaccavano bene la nostra zona M e abbiamo subito anche oggi qualche contropiede però siamo migliorati credo rispetto all'uscita interna contro lo Savona di un mese fa che comunque non abbiamo mollato e abbiamo giocato bene reagendo ai loro contropiedi e ai loro gol Penso che il futuro nasca dalla prossima partita, dal Como a Como e tra due giornate con la Florenza in casa Noi comunque potremo sicuramente fino all'ultima giornata Grazie! 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 Grazie!